Marco 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 Mario Mario Grazie 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 Thank你们 so much for coming. Thank you. If you want to take a picture or you want me to sign anything, just come up and ask. Jordan. Okay, wait, 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 wait. Have some space, please. Everybody dance like this. Be bad. Bene, ok, potete entrare in una di queste serie che è iniziale? Ma non l'hai visto te? No, sto venendo a Roma, se vuoi vengo a Roma. C'è Roma! Federico! Io ce l'avessi avuto un suo amico, ha detto da due, direi a me. No, no, ma se l'avessi avuto non l'avete accettato, quindi... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti